Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Oggi è il grande giorno di Battistuta Al Palazzo Vecchio è andata in scena La presentazione sul docufilm Basato sulla grande storia di Batigol Alla cerimonia Presente anche il sindaco di Firenze Dario Nardella Che comunicato quanto l'ex centravanti Viola Possa essere considerato fiorentino A tutti gli effetti Il sindaco ha rivelato che il prossimo 9 febbraio Nella location odierna Verrà allestita una grande festa Per festeggiare i 50 anni di Gabriel Tornando all'attualità Continuano a tenere banco le ottime prestazioni Dei difensori Biraghi e Milenkovic Per il terzino sinistro Si parla di rinnovo entro Natale Per allontanare le sirene di mercato milanesi Mentre per il serbo Juve, Bayern e United Sono pronti a riempire le cassere della valle Per Fiorentina1.com Vincenzo Pennisi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola